L'Ambufest si appresta a diventare realtà, inizialmente per un periodo di prova di tre mesi. La direttrice generale della ASRA Roma 4, Cristina Matranga, ha firmato qualche giorno fa la delibera con la quale si dà il via, a partire dal 1 giugno, al nuovo servizio proposto dal referente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ed ex responsabile USCAR per la ASRA Roma 4, Mauro Mocci. Si tratta di uno spazio, aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dove i medici di Medicina Generale della città, alternandosi in turni in grado di coprire dalle 10 alle 19, si presteranno a visitare pazienti che presentano sintomi non così gravi da richiedere l'accesso al pronto soccorso, alleggerendo così la pressione sul punto di primo accesso. Questione di giorni e sarà anche pubblicato il bando per arruolare i medici che prenderanno servizio all'interno dell'ambufest che troverà posto all'interno del consultorio dell'ospedale San Paolo. Uno spazio strategico, soprattutto per la vicinanza con il pronto soccorso, dove all'interno della sala triage sarà affisso a una locandina spiegando che per una serie di patologie meno gravi o per richiedere una ricetta ci si potrà rivolgere al vicino nuovo servizio. Come detto, in una prima fase questo strumento, già presente in molti comuni della regione Lazio, avrà una durata limitata, una sorta di prova generale di tre mesi per poi renderlo fisso. E i vantaggi dovrebbero essere molteplici. Da una parte si darà sostegno, pronto soccorso nel periodo che per Civitavecchia, per la presenza dei croceristi, è più difficile. Dall'altra si interviene in una fase, che sulla carta dovrebbe durare sei mesi, nella quale sono in corso i lavori al punto di primo accesso del San Paolo, utilizzando 2,6 milioni di euro di fondi messi a disposizione dalla regione Lazio il giubileo 2025, in un momento storico quindi che, seppur in minima parte, porterà inevitabilmente con sé alcuni disagi all'utenza.